Ci troviamo in via Oreto a Palermo dove praticamente siamo tornati per vedere cosa è cambiato dopo l'ordinanza con il cambio di alcuni sensi di marcia in un punto via Oreto è diventata a senso unico, si deve girare obbligatoriamente su via Buon Riposo per poi mettersi in via la colla e poi tornare su via Oreto. Purtroppo tocca constatare che soprattutto durante le ore calde del giorno, quindi la mattina quando aprono le scuole, gli uffici e nell'ora di pranzo e l'ora di cena quando chiudono la situazione è nel caos, è nel caos più totale come ci hanno segnalato alcuni residenti del quartiere che appunto vivono i disagi ogni giorno di questa zona. Questa è una delle parallele di via Oreto, tanto per darvi un'idea, ed è quello il grande problema, il grande problema di via Oreto è proprio questo, gli ingressi sulla strada sostanzialmente dalle vie laterali che provocano queste code di auto. Quella è via La Colla e lì c'è via Pierrospiga che è stata chiusa con dei ferri rossi per imperirne l'ingresso e quindi tutto il traffico è stato deviato su queste bretelle laterali e come vedete purtroppo le stesse risultano paralizzate. E lì traffico non ce n'è più ma perché semplicemente via Oreto in quel tratto è stata resa senso unico di marcia e quindi si può soltanto salire, non si può più scendere perché su via Bonriposo sono stati apposti, diciamo, quei coni gialli che vedete lì in fondo che impediscono l'accesso. Ci sono state diverse iniziative civiche per cercare di trovare delle soluzioni alternative vi abbiamo parlato della petizione popolare fatta dai residenti e dai commercianti dell'area di via Perez per chiedere l'istituzione di un doppio senso di marcia nel primo tratto di via Oreto e l'installazione di un nuovo ponte Beli dove peraltro c'è anche traffico abbiamo fatto delle riprese dal ponte Oreto e insomma pare che ce ne sia un'altra per richiedere il ripristino della vecchia viabilità.